In questo video provo a mostrare che cosa intendiamo con servizio globale etico e soprattutto vorrei cercare di dimostrare perché una banca che utilizza questo modello di sviluppo commerciale può ottenere dei risultati molto superiori. Per poter far questo ho bisogno di costruire una sintesi di quello che è il modello attraverso il quale le banche e di conseguenza le filiali si muovono attualmente per lo sviluppo commerciale. Il modello attuale in sintesi è sostanzialmente questo, si parte ovviamente da delle esigenze di budget, da queste esigenze si derivano quelle che noi chiamiamo le liste per opportunità. Cosa sono queste liste? Sono banalmente delle liste di clienti accomunati da determinate caratteristiche commerciali. Quindi abbiamo una lista di clienti che hanno più read e i quali si presentano adatti allo sviluppo ad esempio del consolido. Poi avremo una serie di clienti che hanno aperto un mutuo ma non hanno una corrispondente assicurazione per la casa, così come clienti che hanno aperto dei finanziamenti ma non hanno delle CPI. Poi possiamo fare analisi anagrafiche per estrarre liste di clienti adatte alla carta di credito, così come a altre tipologie di prodotti. Ovviamente per molte banche questa creazione di liste per opportunità non è semplicemente demandata alle filiali, ma le filiali vengono guidate o a volte vengono accompagnate in questa creazione attraverso delle vere e proprie campagne commerciali. Dobbiamo aggiungere per completezza che su queste liste per opportunità vanno a convergere ovviamente anche tutte le scadenze e situazioni particolari che possono vivere determinati clienti. Qual è la conseguenza di questo modello di sviluppo? La conseguenza è che le azioni commerciali saranno centrate sul prodotto, cioè noi possiamo insistere quanto vogliamo con gli operatori di filiale che facciano consulenza, possiamo ripetergli mille volte che devono conoscere le esigenze della clientela. Ma di fatto quando l'operatore di filiale incontrerà Mario Rossi sa che Mario Rossi è presente nella lista per le carte di credito, quindi la sua attenzione inevitabilmente sarà verticalizzata sulla vendita di quel prodotto. Questo limita enormemente sia l'efficienza che l'efficacia di vendita. L'efficacia perché non è detto che quel cliente che ha quelle caratteristiche sia veramente interessato a quel prodotto, quindi potrebbe anche concludersi con un no, quel tipo di esplorazione. L'efficienza perché nel momento in cui io chiamo quel cliente e fondamentalmente mi concentro su un determinato prodotto, perdo di vista in realtà i suoi bisogni. Per completare il quadro dobbiamo anche dire che queste azioni commerciali sono generalmente molto influenzate e spesso ostacolate dalle richieste dei clienti affluenti, cioè di quei clienti che entrano spontaneamente in banca con le loro richieste e le loro necessità. Spesso infatti queste richieste tendono a diventare la vera e propria guida di chi lavora in filiale, prendendo tempo ad azioni commerciali che dovrebbero essere più prioritari. Quindi che cosa si differenzia il servizio globaletico? Non si tratta soltanto di utilizzare parole diverse, di utilizzare i termini di consulenza in un modo diverso. Anche il modello che abbiamo denominato servizio globale parte dall'analisi del budget e dalle esigenze di budget, ma queste vengono affiancate da un'analisi del potenziale della clientela. Quindi ad esempio possiamo andare ad analizzare la clientela per il loro possesso prodotti, quindi trovare ad esempio che il 53% della clientela possiede meno di 4 prodotti. Noi possiamo andare a valutare anche la liquidità sul conto, quindi andare a vedere quanti clienti hanno più di 50.000 Euro sul conto, quanti ne hanno più di 200.000. Possiamo andare a vedere quanti clienti non comprano alcun prodotto da ad esempio un anno. Bene, chiaramente da questa analisi che cosa nasce? Nasce una consapevolezza di quelle che sono le vere priorità di ogni filiale. Perché? Perché è ovvio che un cliente che ha della liquidità sul conto, un cliente che ha un IPP pari a 3 e magari non compra nulla dalla banca da oltre un anno, è un cliente che da una parte ha alto rischio abbandono della banca e dall'altra parte è un cliente che potrebbe offrire delle opportunità di vendita e di cross selling molto più alto rispetto ad un cliente che viene tutte le settimane in banca che magari ha già 10 prodotti. Quindi questa analisi della potenzialità della clientela va insieme al budget a determinare quella che chiamiamo la lista dei clienti strategici. Poi è vero, ma è un discorso laterale, il fatto che da questa analisi della potenzialità della clientela potrebbero nascere delle considerazioni molto importanti sulla necessità di acquisizione di nuovi clienti, ma questo lo lasciamo per un momento da una parte perché ci porterebbe in un'altra direzione. Quindi torniamo alla lista dei clienti strategici. Questa lista è una lista unica, non è una lista che è ragionata in base a un singolo prodotto che potrebbe essere interessante per tutta una serie di clienti. Sono tutti clienti che non possiamo non incontrare, quindi sono quei clienti che hanno la massima priorità. Andiamo un attimo a completare questo quadro, ovviamente anche in questo caso abbiamo delle situazioni che tendono a interferire con questa programmazione strategica che sono la presenza di scadenze, le quali però vengono inserite, si tiene conto delle scadenze per la creazione di questa lista di clienti strategici e poi ci sono le richieste dei clienti affluenti. Anche in questo caso vedete che la freccia punta la lista dei clienti strategici perché queste richieste dei clienti affluenti non possono in nessun modo diventare prioritarie rispetto al fatto di incontrare quei determinati clienti strategici, altrimenti non sarebbero stati messi in quella lista, non sarebbero stati considerati prioritari. Quindi queste richieste o rientrano in obiettivi strategici oppure vanno gestiti in modo efficace in termini di soddisfazione della clientela ma senza andare a togliere energie a quella che è l'azione invece commerciale prioritaria. Quindi un cliente che ha dei read finisce comunque nella mia lista e quando io lo prendo in considerazione non so che quel cliente è un cliente al quale dovrei proporre un consolido. Quello diventa un cliente al quale io faccio una telefonata, lo chiamo per venire in banca, per analizzare la sua situazione nel complesso per fare una consulenza insieme a me e nel momento in cui riesco a fissare quell'appuntamento mi studierò la scheda cliente. Questo è quello che insegniamo nel dettaglio nei percorsi, prendere la situazione del cliente e trasformare la sua situazione in una scheda tecnico commerciale di quel cliente nella quale vado sostanzialmente ad analizzare tutte le opportunità, tutti i possibili bisogni che questo cliente potrebbe avere e che ancora non sono soddisfatti dei prodotti posseduti. Quindi per riprendere l'esempio, quel cliente che ha due read, al tempo stesso scopro che non ha l'home banking, che non ha la carta di credito, che di prodotti assicurativi non ne ha neanche uno, che ha 50.000 euro sul conto, che non ha il fondo pensione e così via. Quindi sostanzialmente mi creo una mappatura dei bisogni potenziali di quel cliente. Quando lo incontro, apro l'incontro in un modo diverso, non più verticalizzando su quel prodotto indicato dalla lista, ma dicendo a quel cliente, guarda visto che da un po' di tempo che non ci vediamo, vorrei approfittare di questo incontro per fare una ragionata un po' generale di quello che sono i servizi della banca per te e capire se ci possono essere dei servizi che potrebbero esserti utili. Guarda, noi normalmente cataloghiamo i nostri servizi in quattro macro aree. Come sai ci sono tutti i servizi che riguardano i metodi di pagamento, poi abbiamo l'area ovviamente degli investimenti per gestire al meglio i propri risparmi, poi abbiamo tutto l'ambito della protezione e abbiamo l'ambito del credito. Quindi comincerei con te oggi analizzando uno di questi ambiti, magari quello che ti può interessare di più, per poi proseguire magari anche in appuntamenti successivi a verificare gli altri ambiti. Ma quello che noi otteniamo in questo modo è che iniziamo a costruire un percorso di valore con quel cliente. Non parliamo neanche più di prodotti, ma parliamo di aree di interesse e dentro ognuna di queste aree andiamo a esplorare quelli che sono i suoi bisogni. In questo modo cosa succede? Succede che un cliente quando lo incontro lo servo meglio, succede che la mia soddisfazione professionale aumenta e succede anche che sostanzialmente devo banalmente fare meno telefonate per vendere molti più prodotti. Come ultima cosa vediamo come mettere a terra questo modello di sviluppo. Ovviamente le competenze di consulenza globale sono un tassello fondamentale. Riuscire a condurre una consulenza nelle quattro aree richiede competenze molto più complesse, diverse da quelle che vengono utilizzate normalmente quando si cerca di vendere un prodotto o si propone un portafoglio di investimenti. Questo tipo di consulenza non può essere improvvisata e queste competenze non possono essere date per scontate. Però questo non basta, non basta perché queste competenze devono essere direzionate, focalizzate verso quei clienti prioritari. Perché tutto questo possa avvenire? Naturalmente tutto quanto deve essere calato all'interno di un'organizzazione del lavoro che permetta di gestire il tempo per priorità. All'interno di questa logica chiaramente serve un sistema codificato delle routine precise per poter gestire tutte le possibili interruzioni tra cui tutte le richieste dei clienti che spontaneamente si recano in filiale. Un ulteriore elemento di sistema fondamentale per reggere questo modello di sviluppo è la presenza di indicatori globali che siano congruenti con questa direzione che vogliamo intraprendere. Per dirla con un esempio, se le persone in filiale vengono misurate sul numero di pack venduti, mentre non vi è alcuna attenzione, alcuna analisi precisa sulla tipologia dei clienti che vengono contattati e sul livello di cross-selling, cioè sul numero di prodotti venduti ad ognuno di questi clienti, non stiamo andando a verificare in realtà un tipo di lavoro per priorità, non stiamo andando a verificare che venga applicato un modello consulenziale vero e proprio e quindi cosa faranno le persone in filiale? Cercheranno di raggiungere l'obiettivo di budget nel modo più veloce possibile che è quello di andare a contattare i clienti ben conosciuti. Un ultimo elemento per chiudere il cerchio è la presenza di un corretto ed efficace management di questo sistema, un management capace di verificare in corso d'opera l'andamento di questo processo di servizio globale, la capacità di intervenire in caso di scostamento dai risultati attesi e quindi la capacità di supportare tutto quanto il processo.